Sarà la luce che rivela la bellezza il filo conduttore delle tante iniziative della città del Natale di Arezzo, quindi spazio a proiezioni artistiche, luci natalizie ed ovviamente installazioni luminose per far così brillare di magia, piazze e strade. È dunque tutto pronto per l'evento natalizio con un ricco calendario che prenderà avvio il 25 novembre per concludersi il 7 gennaio. L'amministrazione quest'anno ha lavorato un po' meno sugli eventi ma più sulle installazioni artistiche, questo perché volevamo dare luce alla città per tutto il periodo, quest'anno poi come sapete la città del Natale arriverà fino addirittura alla Befana, quindi abbiamo deciso di puntare molto anche sul periodo più turistico, quindi quello dove spesso le persone sono in ferie, i ragazzi non vanno a scuola. È stato un impegno importante soprattutto per la fortezza perché la fortezza quest'anno sarà nuovamente la fortezza dei bambini con tante attività, però quest'anno abbiamo deciso di tenerla gratuita. Oltre a questo tante installazioni, tanti proiettori architettonici che illumineranno Corsi Italia, illumineranno gli ingressi della città, delle belle installazioni luminose e due grandi eventi, uno sulle sculture di ghiaccio con il campione del mondo che faranno in tempo reale, sono quattro persone che faranno queste sculture da degli enormi blocchi di ghiaccio, e il festival del Madonari di Napoli che disegnerà invece in giro per la città dei bellissimi affreschi anche in 3D. Ma l'intero periodo delle festività sarà reso indimenticabile anche da tantissimi spettacoli itineranti messi in scena dalle associazioni culturali aretine. Quindi gran parte dell'indotto quest'anno della spesa del comune è finito in città e questo è un ulteriore segno positivo perché abbiamo comunque delle belle eccellenze, quindi ci saranno festival, babbi natali, artisti di strada, tante attività che saranno fatte dalla situazione di Arezzo. Un'iniziativa fondamentale anche sul piano turistico, quali sono i dati di anni precedenti e cosa vi aspettate da quest'anno? Quest'anno il movimento è notevole, nonostante siamo partiti tardi, purtroppo come capita sempre nella pubblica amministrazione, ci sono tantissime prenotazioni, i primi due fine settimana già molte strutture sono al completo e tante comunque hanno una buona partecipazione. Abbiamo guardato le statistiche passate, il dicembre dal 2014 al 2016 è cresciuto del 76% come presenze turistiche, quindi il Natale funziona, Arezzo quest'anno ha fatto anche una partnership con Montepulciano, quindi crediamo molto che questa manifestazione negli anni possa diventare turistica veramente in modo molto forte.